In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi, Amen. Sialodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientie, Ora Pronobis. Carissimi fedeli, oggi parliamo della struttura dell'altare, dell'altare tridentino, dell'altare classico, così come è uscita dalle indicazioni del concilio di Trento. Nelle chiese non troviamo soltanto un altare maggiore, cioè quello disposto verso l'abside e visibile in tutta quanta la chiesa, ma troviamo anche altari laterali nelle cappelle delle navate. Ovviamente l'altare maggiore conserva l'orientamento ad est, mentre gli altari laterali sono sull'asse nord-sud. Per gli altari laterali il difetto di orientamento viene supplito da immagini sacre rappresentanti Gesù. Comunque sempre la croce ci deve essere. L'altare maggiore può essere a ridosso del muro posteriore della chiesa, cioè dell'abside, oppure distaccato. Questo non è importante, deve però essere rialzato rispetto al piano del presbiterio. Questo è il piano del presbiterio, deve essere rialzato da alcuni gradini. I gradini possono essere anche uno solo, non è fissato il numero. Il gradino più basso si chiama ultimo gradino, il gradino più alto si chiama predella o su pedaneo. I gradini possono essere frontali oppure laterali. L'altare, veniamo all'altare. L'altare è ricoperto da una mensa. La mensa è importante perché sulla mensa vanno depositati i vasi sacri e si compie il sacrificio della messa. Quindi per questo motivo l'altare è il luogo più importante di tutta quanta la chiesa. Immaginate che cosa ha voluto significare, negli anni Sessanta, la destrutturazione degli altari tridentini. Un vero e proprio colpo al cuore del culto cattolico. Ma ritornando alla mensa dell'altare deve essere realizzata con un'unica lastra di pietra abbastanza dura che non si possa spezzare in alcun modo. All'interno della pietra d'altare, della mensa, c'è incastonata un'altra pietra che si può togliere ed è la pietra sacra. All'interno della quale a sua volta ci sono le reliquie che rendono sacro tutto quanto l'altare. La pietra sacra anch'essa deve essere unica e di materiale resistente. L'altare poi si può suddividere in due parti. Il cornu epistole, che significa il lato dell'epistola, cioè là dove viene letta l'epistola, la parte destra, e il cornu evangelii, cioè il lato dove viene letto il Vangelo, cioè la parte sinistra dell'altare. Se andate a consultare un messale, non i messalini che hanno i fedeli, ma un messale d'altare, nelle rubriche troverete proprio queste due denominazioni. Cornu epistole, cornu evangeli. La parte ritrostante all'altare è verticale ed è costituita da gradini, in questo caso ce n'è uno. L'insieme dei gradini viene chiamato, l'insieme dei gradini viene chiamato dossale o dorsale. Mentre i gradini del dossale sono chiamati gradini maggiori, gli altri vengono chiamati gradini inferiori. A cosa servono i gradini del dossale? Servono a sostenere gli ornamenti dell'altare. In questo caso vediamo candelieri e fiori, ma vi possono essere anche dei reliquiari. All'interno del dossale, nella parte centrale, è sistemato il tabernacolo, che deve stare al centro. In certe chiese, al di sopra del tabernacolo, c'è anche un ciborio. Per l'adorazione solenne del Santissimo Sacramento. E comunque sia, una croce deve essere sempre presente all'interno del ciborio o sopra al tabernacolo. Dietro l'altare spesso c'è un quadro chiamato pala d'altare, qui se ne vede soltanto la parte inferiore, dove è rappresentata la figura del santo a cui l'altare è dedicato. Sia lodato Gesù Cristo. In nome dei Patris e Fili e Spiritus Santi. Amen.